Sì, benvenuto a Cosimo Sardelli, segretario popo generale della funzione pubblica CGL di Taranto. Grazie per averci raggiunto qui a Studio Cento e Radio Cittadella. Con lui parleremo di una serie di vertenze, di argomenti. Partiamo dall'ARPA. Tante polemiche nei giorni scorsi, tanti annunci, tanti proclami, tanti tentativi di spiegare in qualche modo cosa sta succedendo. Andiamo nel dettaglio della materia. Polo microinquinanti, cioè quel polo nato fondamentalmente sulle esigenze anche di Taranto. Nessun depotenziamento a Taranto? Guardi, noi come modus operandi cerchiamo di andare sempre alla fonte delle vicende. Noi nella giornata di ieri insieme al segretario generale confederale Giovanni D'Arcangelo siamo stati ricevuti a seguito di una nostra richiesta di incontro dal direttore generale di ARPA Vito Bruno, dal direttore amministrativo e dal direttore scientifico. E ci è stato spiegato che in realtà è solo una riorganizzazione interna che non comporta alcun spostamento né di personale da Taranto a Bari né tantomeno di competenze. Si tratta semplicemente di rideterminazione del capodipartimento, diciamo, di colui il quale che... Che non è più a Taranto, adesso è a Bari. È a Bari. Perché loro ragionano in una logica trasversale, perché ci sono una serie di servizi che pur essendo allocati a Taranto ci sono servizi invece centrali, diciamo, non trattamente attivanti all'attività di ricerca e di analisi che sono su Bari. Ma è una questione solo di spostamento, diciamo, di macro-organizzazione. Personale, competenze, analisi e controllo del territorio che è la cosa che, diciamo, a noi tenere in maniera particolare rimangano su Taranto. Però la nostra preoccupazione fin dall'inizio era un'altra. Ecco, a questo volevamo arrivare. Esprimete preoccupazione rispetto a quello che era il cosiddetto piano Taranto e alle unità che vengono o verrebbero meno rispetto a questo progetto di monitoraggio. Parliamo di soldi sostanzialmente, di finanziamenti. Di soldi e di controllo ambientale del territorio che per noi è fondamentale. Perché in questa discussione noi abbiamo fatto un attento studio, diciamo, dei provvedimenti, delle leggi finanziarie regionali degli ultimi anni, abbiamo verificato. Il piano Taranto, impropriamento detto piano Taranto, viene istituito da una legge dello Stato del 2016, la 151, che appunto prevedeva la possibilità che Regione Puglia potesse procedere ad una serie di assunzioni extratetto di spesa del personale. Lo stanziamento iniziale era di 5 milioni di euro. Ci fu una DGR del 2017 di Regione Puglia, quindi una delibera di giunta regionale, che recepiva, diciamo, la legge dello Stato. Ora, ciò che noi abbiamo notato è che nel corso degli anni il finanziamento del cosiddetto piano Taranto, che non è un acronimo, piano Taranto significa assunzioni di biologi, tecnici ambientali, ingegneri, chimici, fisici, cioè di professionalità alte, che sono preposti al controllo delle diossigne, dei furani, delle sostanze inquinanti, micro e macro inquinanti del territorio, perché Taranto non è solo acciaierie, è un po' acervo di fonti inquinanti. La cosa che abbiamo notato è che nel passare del tempo, piano Taranto che prevedeva ben 151 assunzioni, già da subito di determinate per gli aumenti contrattuali, circa 115, ne hanno assunti 84, ma di questi 84 molti sono già andati via, perché alcuni sono anche personale precario. Comprendete bene che queste professionalità sono molto ambite sul mercato, sia degli enti pubblici che dei privati, che li pagano di più. Siamo arrivati all'ultima DGR, la numero 18 del 2024, per l'anno 2024, che prevedeva solo 2,5 milioni di euro. La metà. La metà di quello che è previsto. La metà. Che ad oggi non riesce neanche per intero a pagare le retribuzioni e il salario accessorio dei pochi funzionari e tecnici che attualmente sono in servizio per il piano Taranto. Che risposte vi ha dato la Regione su questo fronte? Noi abbiamo l'interlocuzione stata con ARPA Puglia, l'agenzia regionale. Nella persona del direttore generale, dell'amministrativo e dell'ascente. Quindi sempre ieri, nell'ambito della riunione di ieri. E che cosa è emesso? E che naturalmente adesso la partita è tutta politica. Perché la legge regionale di bilancio dovrebbe essere la sessione di bilancio inizia a breve. la nostra preoccupazione, andate che noi immediatamente abbiamo chiesto al Presidente Emiliano e all'assessore dell'ambiente Trigiani di aprirlo un tavolo, è un'avvertenza su questa storia. Perché se questo trend del definanziamento continua, il piano Taranto, fossero anche solo i 2 milioni e mezzo di euro fatti per il 2024, non permetterebbe nessuna assunzione e nessuna stabilizzazione. Perché la nostra preoccupazione è non solo di non andare avanti, ma di andare indietro. Perché i profili a tempo determinato, se non hanno la stabilizzazione, è chiaro che vanno altrove. E questo significa depotenziare un possibile rischio di depotenziamento del controllo ambientale. Secondo ora insieme con Buongiorno Taranto di Buon Mattino abbiamo ospite qui nei nostri studi Cosimo Sardelli, Secretario Generale della Funzione Pubblica CGL di Taranto abbiamo affrontato la vicenda sul polo microinquinanti ARPA e in generale sui fondi destinati al cosiddetto piano Taranto. Adesso cambiamo argomento e parliamo di sovrintendenza. Sulla carta sembra tutto risolto. Taranto sarà il centro nazionale di riferimento della sovrintendenza subacquea ma in realtà c'è un problema di fondo. La sovrintendenza subacquea si occupa di tutto ciò che ha a che fare oltre le 12 miglia dalla costa. ma entro le 12 miglia che succede? Siamo tornati al periodo della prima riforma Franceschini. Bene. Sostanzialmente l'attività della sovrintendenza terrestre diciamo così e nei 12 miglia marine si sposta a legge. Ci hanno detto rimane la sovrintendenza subacquea Taranto i lavoratori non si spostano va bene però è un risultato a metà perché tutta l'attività di controllo e tutela dei beni culturali fino a 12 miglia marine la testa va a Lecce. Facciamo un esempio pratico giusto per capirci che cosa vuol dire cioè quali penalizzazioni può avere il territorio in termini pratici? L'esperienza pratica dimostra che quando diciamo c'è uno spacchettamento delle attività tra l'attività diciamo di controllo sul territorio e l'attività decisionale per esempio a Lecce questo determina e abbiamo avuto nell'esperienza in cui c'è stato un intervallo di tempo in cui era già stata spostata a Lecce con la prima riforma Franceschini i tempi si allungano a dismisura e questo è un problema perché una città come Taranto dove diciamo ogni qualvolta si fa qualunque tipo di lavoro anche minimale è necessario l'intervento della tutela artistica i tempi si allungheranno in maniera esponenziale fuori onda ci facevamo l'esempio degli impianti offshore difatti noi ci chiediamo parliamo di transizione ecologica transizione culturale ma queste sono scelte che vanno supportate datti concreti l'impianto offshore su Taranto e Brindisi un investimento importante che è nelle 12 miglia marine significa che i tempi si allungheranno perché ci sarà questo continuo via vai tra Taranto e Lecce e gli investitori se vogliamo essere attrattivi per il territorio e quando parlo di investitori non mi riferisco solo all'offshore ma mi riferisco a tutta l'attività di valorizzazione del territorio di transizione hanno bisogno di tempi cederi da parte della pubblica amministrazione allora il rischio è che ci siano molte chiacchiere sulla transizione ecologica e culturale ma poi gli atti concreti vanno in senso diametralmente opposto a questo proposito transizione culturale abbiamo ricevuto diverse segnalazioni rispetto al fatto che il Marta è chiuso la domenica mattina e apre dalle 14 in poi le risulta questa cosa è una cosa legata ai lavoratori perché insomma noi abbiamo cercato un po' di capire ma vorremmo da lei avere un quadro più chiaro cioè effettivamente perché se un turista arriva a Taranto di domenica mattina trova il museo chiuso perché non si fanno i matrimoni con i figli secchi perché noi abbiamo dei lavoratori che hanno ampiamente superato il tetto contrattuale del 33% del lavoro festivo e anche quella domenica pomeriggio che si apre gli altri giorni festivi si apre perché i lavoratori su base volontaria su un'adesione volontaria partecipano un attimo perché forse ecco su base volontaria diciamo vanno a lavorare perché non sarebbero nemmeno obbligati perché anche qui su Marta un investimento su Marta comporta personale adeguato cioè bisogna assumere più personale bisogna assumere più personale quante persone servirebbero? servirebbero tra personale di vigilanza e personale amministrativo almeno intorno alle 20 unità e adesso quante sono? adesso diciamo ci sono le nuove assunzioni però diciamo con le turnazioni non riescono a coprire tutti i turni non riescono a coprire e dico di più noi settimana prossima abbiamo come funzione pubblica CGLT abbiamo aperto una procedura di conflitto con l'amministrazione dei musei quindi con il ministero della cultura proprio su questa vicenda perché non si può pensare di avere una struttura così importante basata sulla volontarietà dei lavoratori nel momento in cui uno si progetta siamo riusciti a sentire quello che ha detto Sardelli l'abbiamo preso Peppe altrimenti glielo facciamo ripetere brevemente glielo facciamo ripetere che servono più unità allora dicevamo brevissimamente perché siamo in ritardo però stava dicendo cose importanti quindi mi sembra anche giusto che vengano riportate al microfono avevamo avuto un piccolo problema tecnico quante unità ci sono adesso quante ne servirebbero e ci spiegava che state lavorando su questo tempo ne servirebbero almeno altre 20 unità tra personale di vigilanza e personale amministrativo perché ripeto nel momento in cui si progetta una giusta apertura del museo in fasce orarie anche festive proprio per renderlo fruibile bisogna tener conto di quello che è la turnazione del personale e quindi è una cosa abbastanza semplice quindi non si può pensare che Marta diventi un asset fondamentale quando poi non si investe sulle risorse umane noi questa questione l'abbiamo quella del 33% di lavoro festivo superato da parte di tutti e siamo ancora ai primi giorni di ottobre è un dato preoccupante significa che non c'è un'idea complessiva di programmazione dell'attività e non si può pensare che i lavoratori su base volontaria diano la disponibilità a superare questo tetto del 33% allora o si ha un'idea complessiva del futuro del Marta e quindi si fanno gli investimenti con le assunzioni e le risorse altrimenti si rischia che anche qui sono chiacchiere sono cioè le scelte Sardelli approfitto diciamo del nostro microfono quello che voglio capire io questi lavoratori altrimenti magari può passare l'idea a casa che questi non vogliano lavorare la domenica chiariamolo chiariamolo un attimo questa cosa parliamo innanzitutto di lavoratori assunti a tempo indeterminato sì assolutamente benissimo parliamo di lavoratori che sostanzialmente hanno lavorato una domenica e due no di fatto giusto? di fatto sì ci sono lavoratori che saltano sistematicamente il riposo settimanale perfetto ecco per spiegarla un po' chiaro per far capire a chi ci ascolta qua e ci vede qual è diciamo la difficoltà oggettiva qual è quindi la soluzione l'assunzione di altro personale i lavoratori sono chiari da questo punto di vista potrebbero fare anche un discorso egoistico dal punto di vista della prestazione straordinaria ma in realtà non può reggere un sistema in questa maniera il 33% già è un tetto massimo che è stato già ampiamente superato quindi questo è indice di una patologia del sistema chiarissimo grazie davvero per essere stato con noi ospite negli studi di studio 100 a Cosimo Sardelli segretario della funzione pubblica CGL di Taranto abbiamo sviscerato tanti argomenti ci siamo anche un po' allungati ma erano importanti quindi grazie davvero buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti